Saddai viene tradotto con onnipotente, ogni volta che c'è nella Bibbia, poche volte, ma viene tradotto con onnipotente. Ora, nella Bibbia di Gerusalemme, in nota, c'è scritto che la traduzione con onnipotente è inesatta, perché in realtà potrebbe significare, o traduciamo purel con Dio, va bene, così non introduciamo discussioni inutili, o Dio della montagna o, meglio ancora, Dio della steppa. Come onnipotente che non c'entra nulla con il testo originale. Diciamo così, cosiddetti veri cercatori della verità, veri cercatori di Dio, una possibilità statistica in più, quella di trovare il Dio vero essendosi liberati dall'idea di un Dio totalmente falso, perché totalmente inventato.